Ma la Bibbia nasce da un presupposto, nasce da una grande fede nell'uomo di poter fare delle scelte responsabili, di poter agire in modo tale da amministrare saggiamente della propria libertà. La Bibbia, ispirata da Dio certamente, ma è stata scritta anche di fatto da saggi, almeno alcune delle sue pagine, da saggi capaci di credere che la saggezza potesse essere comunicata, trasmessa, che si potesse cioè fare di coloro che ascoltano delle persone migliori, degli esseri umani migliori. Quindi questi racconti sono formativi proprio perché credono nella libertà di chi ascolta e si rivolgono alla libertà di chi ascolta, perché di questo racconto si possa fare appunto buon uso nella propria vita, nelle proprie decisioni. E bella a tutti dal prof, buonasera a tutti e come vedete questa sera sono a casa della mamma che mi ha dovuto sopportare tutta la giornata e pensate, pensate che santa donna. Questa nostra chiacchierata questa sera vorrebbe essere un'introduzione alla lettura della saga di Giuseppe, quindi capitoli, come abbiamo già detto, dal 37 al 50 del libro di Genesi. Che cosa caratterizza questo racconto? La prima cosa è evidente, si tratta di un racconto che fa da ponte tra il libro di Genesi, tra i racconti dei patriarchi e poi quello che sarà il racconto della storia dell'Esodo. Il racconto di Giuseppe è letteralmente un ponte tra Israele e l'Egitto. Questo passaggio, che poi sarà il passaggio della Pasqua, viene anticipato, diciamo così, da una contropasqua, da un altro passaggio, quello da Israele all'Egitto, motivato, come vedremo, da circostanze catastrofiche, ben precise, condite da elementi estremamente drammatici. E come vedremo, però, tutto questo viene poi letto dagli autori biblici come un piano superiore, come un piano divino. Siamo già abituati, a dire il vero, se siamo lettori della Bibbia, all'idea che Dio ha dei piani, che Dio ha dei progetti e che li manifesta. Ma non li manifesta soltanto a parole, non li manifesta soltanto comunicandosi a dei profeti, rivelando, così diciamo, la sua volontà, la sua legge, a dei personaggi da lui scelti. Ma soprattutto Dio si rivela muovendo le cose da dietro le quinte. Dio è il grande sceneggiatore della storia dell'umanità, che di fatto ordina tutti gli elementi della storia verso un significato, verso un destino, se vogliamo parlare di destino proprio nel senso di destinazione, perché c'è un indirizzo, perché c'è un pacco che si destina appunto a un punto preciso. Ecco, Dio ha in mente un progetto e questo è quello che manifesta il racconto di Giuseppe. Il progetto di Dio si realizza nonostante tutto, nonostante anche ciò che di male può non soltanto accadere, ma ciò che di male l'uomo stesso, gli stessi umani possono commettere. Qual è lo scopo di questa storia perciò? Non è uno scopo informativo, come del resto, questo vale per tutta la Bibbia, se vogliamo, però penso che valga in particolare per questo straordinario racconto, di grandissimo livello, anche letterario, drammaturgico. Questo racconto non ci vuole informare, non ci vuole istruire, nel senso darci delle nozioni o farci comprendere tante belle idee nuove. Questo racconto vuole soprattutto formarci, non informarci, ma formarci. E per formarci un racconto deve essere scritto con grande rispetto per il lettore, anche se ricordiamo, quando parliamo di Bibbia, dovremmo dire l'ascoltatore, l'uditore, principalmente, perché era una cerchia distrettissima, quella delle persone che potevano, diciamo così, permettersi di aprire un testo e leggerlo nell'antichità. Questi testi erano stati scritti per essere consumati, diciamo così, in una comunità, letti ad alta voce, insieme, magari in una circostanza solenne, liturgica, religiosa. Quindi questi racconti si rivolgono all'ascoltatore e credono nella capacità dell'ascoltatore di fare scelte responsabili. Cioè è vero che la Bibbia è un invito da parte di Dio all'uomo di credere in Lui, quindi è un invito a credere, a credere in Dio, ma la Bibbia nasce da un presupposto, nasce da una grande fede nell'uomo di poter fare delle scelte responsabili, di poter agire in modo tale da amministrare saggiamente della propria libertà. La Bibbia, ispirata da Dio, certamente, ma è stata scritta anche di fatto da saggi, almeno alcune delle sue pagine, da saggi capaci di credere che la saggezza potesse essere comunicata, trasmessa, che si potesse cioè fare di coloro che ascoltano delle persone migliori, degli esseri umani migliori. Quindi questi racconti sono formativi proprio perché credono nella libertà di chi ascolta e si rivolgono alla libertà di chi ascolta, perché di questo racconto si possa fare appunto buon uso nella propria vita, nelle proprie decisioni. Ha un'altra caratteristica la storia di Giuseppe, la caratteristica di essere un racconto che di per sé, di religioso, sembra non avere molto. Perché? Perché di Dio si parla pochissimo. Se per religione intendiamo, per esperienza religiosa, il parlare di Dio, il nominarlo, il pregare, Allora, il racconto di Giuseppe, da questo punto di vista, è abbastanza deludente. Dio viene nominato pochissime volte. Quando lavoravo con Ettore Bernabèi e la Luxvide per la produzione della serie dei film dedicati proprio alla Bibbia, era il tentativo per quegli anni abbastanza impegnativo di trasformare il testo biblico anche in un, diciamo così, in un testo di tipo diverso. Quindi in una sceneggiatura, quindi in un film o una serie di film. Quindi, allora, altri l'erano fatto nel cinema, no? Ma il tentativo di farlo per la televisione era una sfida particolarmente interessante. E ricordo che spesso, quando leggevamo le sceneggiature o guardavamo il girato, fatto dai registi, no? Che proponevano spezzoni, no? Del loro lavoro. Ma soprattutto gli sceneggiatori, devo dire, erano un po' più... Peccavano un po' di più in questo senso. Pensavano che per fare un racconto religioso, un racconto biblico, bisognasse continuamente parlare di Dio, che i personaggi si riferissero a Dio, pregassero, si mettessero in atteggiamento devoto, si facessero predicozzi negli uni gli altri. E questo, allora, ero un esperto, diciamo, consulente. Ero appena uscito dal biblico. E questo, mi ricordo che mi costringeva a intervenire spesso e a dire, insomma, a questi autori, comunque pieni di buona volontà e di entusiasmo, ma guardate che la Bibbia mica fa così. La Bibbia non sta sempre a parlare di Dio. C'è qualcosa di vero in quella frase attribuita a Mauro Biglino, oh signore l'ho pronunciato il nome, quando dice la Bibbia non parla di Dio. La Bibbia parla sempre di Dio senza parlare mai di Dio. Mai è una parola grossa, ma ci sono sicuramente delle pagine, delle sezioni, dei racconti, dove la presenza esplicita, nominata, del Divino non c'è. Sapete che c'è anche il divieto biblico di non nominare Dio. E forse un motivo ci sarà. Perché non soltanto Dio non deve essere nominato, nel senso che deve essere chiamato in causa continuamente, ma bisogna riconoscere la sua presenza, forse in un modo ancora più profondo, più sottile di quello delle parole. Cioè perché Dio non è uno che parla, sì, parla anche, ma più che parlare preferisce agire, muovere, ordinare la realtà, ordinare le cose che accadono e dare un significato alle cose che accadono. Quindi Dio sembra assente nel racconto di Giuseppe e dei suoi fratelli. Ci sono in realtà pochissime menzioni, non so se le ho contate. Una mi sembra che sia al capitolo 38. Ecco, dove si parla di, che tra l'altro il capitolo 38 è un intermezzo, diciamo qualcosa che è un po' a sé, un racconto, una narrazione un po' a sé, dove si parla della storia di Tamar, del suo tentativo, insomma, di diventare madre. E in quella storia lì a un certo punto si dice esplicitamente che Dio agisce in favore di Tamar. Poi c'è al capitolo 39 una frase in cui si accenna alla presenza di Dio e si dice il Signore fu con Giuseppe. Fu con Giuseppe nel senso che proprio nel momento in cui sembrava andare tutto storto, soprattutto nella circostanza, insomma, in cui lui viene preso, portato in prigione, nonostante tutto Dio fu con Giuseppe. Era come per ricordare al lettore che Dio comunque agisce in quelle circostanze. Insomma, in questa storia Dio c'è ma non si nomina. Diciamo che si vede una presenza indiretta, ma soprattutto si vede alla fine, alla conclusione. È lì che si rivela l'azione di Dio. Non voglio fare spoiler, quindi anche se forse è una delle storie più conosciute della Bibbia, non voglio anticipare alcune pagine, ma voglio insieme a voi fare una brevissima carrellata su quelli che secondo me sono i temi più importanti di questa storia. E ce ne sono tre, direi tre e mezzo, perché c'è un altro che mi interessa particolarmente. Diciamo quelli principali sono tre, i tre temi, i tre grandi temi, che sono temi biblici ricorrenti, ma che sono molto forti e molto messi in evidenza nella storia di Giuseppe. Il primo tema è quello della fratellanza, e di quanto sia difficile essere fratelli, e di quanto una fratellanza che funzioni sia anche segnata dall'esigenza della riconciliazione e del perdono. La fratellanza è uno dei temi, diciamo, quasi una fissazione del Libro di Genesi. Basta fare dei nomi, no? Caino, Abele, Isacco e Ismaele, Giacobbe ed Esau, e qui abbiamo Giuseppe con tutti gli altri fratelli. Le storie precedenti, Caino e Abele è una storia tragica, quella di Isacco e Ismaele è una storia complicata, segnata da una chiara lezione divina per Isacco, che però si conclude in una qualche forma di riconciliazione, no? Ricordate che Isacco e Ismaele vanno insieme a seppellire il padre Abramo. E la stessa cosa si ripete un po' tra Giacobbe ed Esau, che è un po' una via di mezzo tra un Caino e Abele, una storia mancata di vendetta da parte di Esau nei confronti di Isacco, una storia di Caino e Abele, se volete, un po' al contrario, dove però non si consuma la violenza, perché Esau mostra invece saggezza e volontà di riconciliarsi. E alla fine anche Esau e Giacobbe sono riuniti sulla tomba del loro padre, Isacco. E questo è un tema, questo della riconciliazione, che però diventa veramente forte, veramente significativo, soltanto con la storia invece di Giuseppe e due suoi fratelli. La fratellanza che è occasione di gelosia, perché ciò che spesso provoca gli scontri tra fratelli sono appunto le eredità, le successioni, il potere, ma a volte anche i genitori fanno la loro parte, almeno secondo Genesi. E cioè che ci sono delle preferenze. Abbiamo visto, insomma, nel caso di Giacobbe e Esau, ma nel caso di Giuseppe è ancora più evidente, perché Giacobbe ha una evidentissima, spudorata preferenza per Giuseppe e Giuseppe dal canto suo non fa niente per nasconderlo. Anzi, si sente un po' letteralmente il figlio di papà rispetto agli altri. E diciamo che non fa niente Giuseppe da parte sua per essere simpatico, ma l'invidia e l'atteggiamento di desiderio, cioè il desiderio da parte degli altri fratelli, di, diciamo, di livellare questo dislivello dovuto alle preferenze, nel caso di Giuseppe porta appunto al, praticamente, al fratricidio. Cioè, anche se non lo uccideranno di mano loro, a un certo punto i fratelli saranno convinti che Giuseppe è morto, lo portano sulla coscienza. Sappiamo che c'è un vantaggio, diciamo, che c'è rispetto ad altri casi, insomma, di scontri a fratelli. I fratelli di Giuseppe mantengono comunque una coscienza, cioè ogni tanto ci pensano a quello che hanno fatto. E questo è il motivo per cui sono poi in grado di pentirsi, cioè sono consapevoli del male che hanno fatto. Quindi questa idea della fratellanza è una chiave di lettura. Quindi, quando adesso leggerete, prima di cominciare insieme ai nostri commenti, Genesi, date un occhio, insomma, a questo tema. E magari prendetevi appunti ogni volta che si parla, appunto, dei rapporti tra fratelli, come i vari personaggi agiscono o reagiscono, come si confrontano, quali sono i loro valori. È un bel romanzo corale questo di Giuseppe e dei suoi fratelli. Poi c'è un altro tema importante che a volte passa, diciamo, in secondo piano, ma in realtà è fondamentale, cioè il tema della sapienza. Quando qualche, insomma, qualche annetto fa, diciamo forse anche un secolo e mezzo fa, si è ricominciati a studiare questi testi in chiave storico-critica, una cosa di cui i commentatori cominciarono a rendersi conto, è che molte pagine della Bibbia erano state scritte con uno spirito e con delle convinzioni diverse da altre pagine. E soprattutto la letteratura sapienziale spiccava in maniera particolare. Ci sono stati autori come Von Rad, un grande commentatore di Genesi, e parliamo, insomma, della metà del secolo scorso, che misero subito in evidenza questa cosa. Ma qui, in Genesi, abbiamo uno scrittore, un autore che ha, diciamo, una visione del mondo simile a quella del libro dei proferbi, simile a quella del libro di Giobbe, cioè abbiamo un autore che è profondamente convinto che la cosa più importante della vita sia la saggezza, la sapienza. Questa è una cosa che dovrebbe farci riflettere. Che cos'è la sapienza per l'uomo antico e per l'uomo della Bibbia? È, prima di tutto, una virtù di tipo politico. Cioè, gli antichi manoscritti egiziani che abbiamo trovato, che parlano di sapienza, sono in realtà dei manuali dedicati per coloro che hanno delle responsabilità di governo. Cioè, sono come una raccolta di consigli per chi deve comandare, per come si esercita il potere. La cosa che più si richiede a chi governa, la cosa che più si richiede nell'antichità, nei saggi egiziani antichi e, appunto, anche nei saggi della Bibbia, è la sapienza nel governare. E la sapienza è questa capacità di soppesare ciò che serve e di saperlo fare con coraggio e anche con dedizione. Il saper fare le scelte giuste in momenti difficili. E l'arte del governare è tutta lì. E anche nel dare fiducia e nel conquistarsi la fiducia. È una sapienza che va al di là di ogni propaganda elettorale. È una visione del politico molto diversa da quella che noi abbiamo oggi, dove si fa una scalata al potere basata sul consenso. Il politico dell'antichità, almeno così come si vedeva idealmente, era qualcuno che si guadagnava sul campo, insomma, questa capacità. Spesso era lì per motivi dinastici, d'accordo, però questo non lo escludeva dalla responsabilità di dover, appunto, prendere decisioni sagge e quindi di avere questa virtù. Ricordate qual è la prima cosa che Salomone chiede quando diventare? No? Non chiede ricchezza, non chiede le cose che tutti avremmo chiesto. Una sola cosa chiede a Dio è cioè la sapienza nel governare, perché a quello serve essere sapienti. La sapienza è la capacità di assumersi responsabilità e di eseguire il proprio dovere in maniera esemplare. C'è questo risvolto pratico della sapienza, questo risvolto letteralmente pragmatico, no? Quindi non il sapiente non è colui che sa. Il sapiente è colui che, più che sa, sa assaporare, sa assaggiare la realtà e riconoscendo la consistenza e il sapore di questa realtà sa cosa fare, sa cosa farsene. E Giuseppe è esattamente questo. Vedremo. A tutti i doni del sapiente guadagna medialmente la fiducia di Potifar, il suo padrone, quando diventerà schiavo. Poi guadagnerà la fiducia del capo delle guardie, della prigione. E poi addirittura la fiducia del faraone, no? Quindi, ed è uno che, insomma, ci sa fare, che sa governare, sa distinguersi e quindi sa conquistare la fiducia degli altri che lo mettono a capo delle proprie cose. Ecco, Giuseppe è un saggio, è un saggio per la Bibbia è colui al quale tu senza problemi affideresti tutti i tuoi risparmi, affideresti tutta la tua famiglia, tutta la tua casa, tutte le cose più preziose che hai, gli daresti tranquillamente che sai, appunto, che lui saprebbe come agire meglio per il bene di tutti. E questo agire meglio per il bene di tutti è una qualità che dovrebbe, insomma, un po' tornare di moda. Quanto abbiamo bisogno oggi di politici che siano capaci di fare questo? E questo è una cosa, è una cosa importante. L'altro tema è quello appunto della presenza di Dio, di questa presenza di Dio discreta ma reale, questa presenza profonda ma nascosta, però efficace, efficace. Cioè, Dio conduce verso un progetto. Cioè, la presenza di Dio non viene vista come la presenza di un personaggio che agisce insieme agli altri, ma in realtà è una visione teologica della storia. Cioè, si legge la storia, quindi tutti gli eventi umani, come destinati a uno scopo. Quindi, c'è una forza profonda, lineare, che conduce le cose verso la realizzazione di un bene, di una salvezza più grande. E questa è un'idea totalmente diversa dalla visione del fato, del caos. Predominava nel mondo antico, non segnato dalla rivelazione dell'unico Dio di Israele. Prevaleva l'idea di un mondo invece sottoposto alle regole del caos, dove tutto dipendeva dalla fortuna, dalla coincidenza, dal caso, oppure da una forza che ti conduceva irresistibilmente a una destinazione, appunto il destino, sulla quale tu non potevi far nulla, contro la quale non potevi far nulla. Poteva andarti bene, poteva andarti male, ma si trattava comunque di una forza cieca che agiva senza nessuna intenzione e senza nessuno scopo. Diremmo oggi, usando un termine filosofico, senza nessuna intenzionalità, senza nessuna volontà. Ecco, questa non è la storia della Bibbia. La storia della Bibbia invece è la storia di un Dio che appunto porta, conduce l'umanità da un punto A a un punto B. E questo punto B, o se volete, usando i termini biblici, da un punto alfa a un punto omega, da l'A alla Z, facendo insieme all'umanità tutto il percorso. Questo proprio perché la storia di Giuseppe è una storia dove si manifesta la forza della provvidenza. E lo vedremo. Dall'invidia omicida dei fratelli si produce una cascata di eventi che producono grande spavento, grande sofferenza in Giacobbe, in Giuseppe, nelle persone coinvolte. ci sono tanti eventi che accadono, ma alla fine tutti questi eventi, per quanto terribili, hanno la funzione di preparare una grande salvezza. Grazie a Giuseppe, secondo il racconto di Genesi, praticamente si salva tutto l'Egitto dalla fame, si salva Israele stesso dalla fame e si prepara una storia di salvezza che sarà ancora più lunga e incisiva. E quindi, insomma, questo è il mio invito a leggere, Giuseppe. E lo faremo, insomma, come sempre, prendendo capitolo per capitolo, sezione per sezione. Una cosa che stavo dimenticando di dire è che questo stile della presenza di Dio è molto particolare. Cioè, vi avevo detto, vi avevo accennato, che ci sono pochissimi momenti in cui Dio si manifesta esplicitamente, comunica esplicitamente qualcosa agli altri personaggi, agli altri protagonisti. C'è un momento finale, quando vanno a dire a Giacobbe che in realtà Giuseppe è ancora vivo, Giacobbe non ci crede, quello è un altro momento in cui Dio interviene. Interviene in sogno, apparendo a Giacobbe, per dirgli, no, no, guarda che ci hanno ragione, che è vero, che Giuseppe è veramente vivo. E allora lì quello è un altro momento dell'intervento divino. Ma la cosa interessante su cui riflettere è che il Dio della Bibbia rispetta molto i suoi personaggi, rispetta tutti, comportandosi come se non ci fosse. Cioè Dio agisce come se non ci fosse. Questo dovrebbe farci pensare. Quando diciamo ma qui Dio non c'è. Dio non c'è ma in realtà Dio sta agendo, Dio sta lavorando. Il Vangelo esprime questo concetto, Gesù nel Vangelo esprime questo concetto della presenza di Dio che sembra assente ma che in realtà sta trasformando la realtà come quella del seme nascosto nella terra. Il contadino semina il seme e il seme è nascosto nella terra. E questa presenza di Dio che prima o poi germoglia e prima o poi agisce. Quindi di nuovo torna il tema dell'attesa. Vere fede per nuovo biblico è principalmente e soprattutto la capacità di attendere. E il Dio della Bibbia è quello che appunto sa comunicare questo alla responsabilità dell'uomo. se tu sei capace e accetti questa sfida di assumersi le tue responsabilità Dio si rivela come colui che agisce nel mondo nella storia e porta a termine i suoi progetti. Dio